Di nuovo insieme a mezzanotte e 14 minuti, chi frequenta abitualmente Twitter per cercare un po' di capire quale sia lo stato d'animo della politica italiana, perché questo poi è un dato di fatto, ormai viene utilizzato questo strumento non soltanto per esprimere posizioni, idee, ma anche per farci un po' un'idea del clima che si respira all'interno dei partiti durante una fase così diversa rispetto al passato, forse di rivoluzione, forse semplicemente di trasformazione, non potrà non aver notato quello che è accaduto negli ultimi giorni. C'è un hashtag in particolare, Rampelli, così la coinvolgo subito, che è seguita dall'espressione di partire da zero. Adesso la vediamo anche insieme, perché poi è uno slogan a tutti gli effetti, adeguato ovviamente al tema di riferimento e leggendo un po' le varie notizie, è possibile vedere Cinzia Zarina con un partito al 16,8%, si deve pretendere il cambiamento, il PDL deve ripartire da zero, poi scorri ancora e continui a leggere che sul 2 giugno sono d'accordo con lei, spreco di denaro pubblico, scrive Turi Migliore, il denaro è da cercare, lo spreco è da cercare da altre parti, è una festa nazionale, non il carnevale di Rio. Poi c'è qualcuno che rituita Marco Marsiglio, oggi ha la Camera per votare il DDL anticorruzione e lì lo slogan se non sbaglio è zero corruzione, ci spiega che cosa sta accadendo, perché poi da Twitter si può navigare ancora e si arriva direttamente a un sito internet, ripartire da zero.it, tutto questo per lanciare una serie di iniziative che sono partite nell'ultimo fine settimana e che a differenza dei tradizionali comizi vi hanno visti impegnati in un'altra maniera, quale? Il format che abbiamo elaborato è stato quello di ascoltare intanto i nostri elettori, ma anche i cittadini, non necessariamente i nostri simpatizzanti, sia quelli che hanno sostenuto il PDL in questa tornata amministrativa, sia quelli che dal PDL si sono allontanati per finire nell'assenzionismo, nel non voto, piuttosto che quelli che addirittura si sono avvicinati ad altri movimenti maggiormente protestatari, diciamo così, per dare di più, in maniera più convincente, l'impressione di essersi davvero stancati dello status quo. Quindi il format è stato quello di stare su varie piazze italiane, a Roma abbiamo avuto quattro siti dove abbiamo montato delle pedane, abbiamo messo un'amplificazione, abbiamo lasciato il microfono a chiunque volesse lasciarci una testimonianza, e quindi anche delle proposte. Devo dire che la formula è stata particolarmente efficace, qual è stato l'obiettivo? Dicevo intanto che le piazze italiane sono state molte, la mobilitazione è solo iniziata, insomma già venerdì ci saranno altre manifestazioni analoghe a Napoli, a Reggio Calabria, nelle Marche, così come per tutta la settimana prossima, ancora a Roma ci saranno altre quattro piazze mobilitate, quindi non vogliamo fare comizi, non intendiamo fare vetrina, vogliamo davvero raccogliere il contributo e le riflessioni delle persone per costruire una nuova piattaforma, si parla, io sono convinto che siamo di fatto arrivati al punto zero, per citare appunto di partire da zero, siamo arrivati all'inizio della terza repubblica, la seconda si sta esaurendo, sta tramontando e quindi la fondazione della terza repubblica deve vedere che i cittadini partecipi con una rincorsa lunga e noi abbiamo per questo costruito insieme a tutte le persone che ci hanno dato e ci daranno ancora suggerimenti, una sorta di piattaforma in politichese si direbbe così, in maniera underground l'abbiamo invece ribattezzata zero cedario, tutti gli zero che uno vorrebbe caratterizzassero l'inizio di questa terza fase della Repubblica Italiana. Quali sono questi zero? Diciamo che l'elenco è lungo, abbiamo messo zero affaristi, abbiamo messo zero oligarchia, abbiamo messo zero partitocrazia, abbiamo messo zero nominati, questi sono tutti zero, anzi tranne il primo insomma sono tutti zero che sono di fatto dedicati alla prossima riforma elettorale, se mai si farà, quindi a questo sistema bislacco secondo il quale in Parlamento ci sono persone scelte dai segretari di partito invece che dai cittadini, poi c'è zero secessione per dare anche un segnale verso i nostri ex alleati leghisti, noi riteniamo che il PDL debba avere anche la capacità di dare degli indirizzi rispetto a coloro i quali possano avvicinarsi e quindi caso mai ristabilire un'alleanza con noi, riteniamo che finché all'interno dello statuto della Lega esista la secessione come obiettivo finale, ovvero l'indipendenza della Patania, noi si debba dire forte e chiaro alla Lega che non siamo disponibili a un'alleanza con chi comunque intende disgregare l'unità nazionale e quindi spaccare in più pezzi il nostro territorio geografico che significa anche la nostra cultura, la nostra tradizione di riferimento e come abbiamo potuto constatare anche dalle recenti elezioni amministrative oltretutto questo significherebbe lasciare la Lega al declino, magari il PDL non vincerà ma certamente la Lega da sola non andrà da nessuna parte, quindi dobbiamo anche far capire che non siamo disponibili alle formule in quanto tali ma che vogliamo guardare ai contenuti esattamente come può capitare per l'Udc perché anche nei confronti del mondo cattolico che si ritrova anche nell'Udc oltre che in altri partiti compreso il PDL si può ragionare di sussidiarietà, si può ragionare di politiche per la famiglia, si può ragionare di applicazione totale della 194 anche nella parte che parla mai applicata della prevenzione all'aborto, si può parlare di matrimoni omosessuali verso i quali comunque il PDL mantiene una posizione assolutamente contraria, su questo magari si può costruire invece che fare formule e inciuci un'alleanza, ci sono anche tematiche innovative, zero divario digitale perché sappiamo che in Italia ci sono delle zone che non hanno accesso, sempre per stare sulla tematica della rete di internet, non hanno accesso e questo è una discriminazione inaccettabile. Tra le tematiche innovative ci sono rifiuti zero, abbiamo constatato le ennesime difficoltà sul territorio laziale a trovare una soluzione per la ormai stracolma discarica di Malagrotta, la prospettiva dei rifiuti zero così come sta capitando a San Francisco, città non piccolo paese, grande città di oltre un milione di abitanti che sta all'80% di raccolta differenziata e che si è data l'obiettivo per il 2020 di riciclare per intero quello che si produce e si consuma. Una cosa bellissima, ci possiamo lavorare anche qui, non ci mancano né mani né piedi né cervelli, siamo esattamente come i cittadini, gli amministratori di San Francisco, certo vanno fatte delle scelte strategiche, l'obiettivo strategico deve essere esattamente quello di arrivare a azzerare i rifiuti. C'è un unico dubbio che poi credo che venga spontaneo, cioè questa realtà, questa esigenza di cambiamento e di rinnovamento è espressa da lei qui stasera ma riguarda una buona parte del PDL, in particolar modo ovviamente c'è un'esperienza romana che la vede protagonista e che è senz'altro caratterizzante, ci sono altri leader nazionali che si sono espressi, basti pensare all'ex ministro e comunque volto e nome di spicco in termini dirigenziali del PDL, Giorgia Meloni, c'è questa percezione all'interno del partito? Gli lo chiedo serenamente perché poi su tanti dei concetti che ha espresso mi sembra che poi la distanza dall'attuale classe dirigente del PDL sia una distanza abbastanza corposa, adesso lei prima ha fatto riferimento alla legge elettorale, c'era tutto quel discorso in piedi, voi avete fatto un'altra proposta, c'è stata questa ultima mossa di Berlusconi e Alfano, ma in generale mi sembra che lei stia identificando un soggetto partitico che guarda con attenzione anche a nuove forme di politica che però forse non è così presente ben in testa negli attuali dirigenti del PDL. Ovviamente il nostro obiettivo è tentare di stimolare anche altri dirigenti del PDL a confrontarsi con questi contenuti, non è un caso che ci siamo voluti sottrarre da logiche di diciamo così di rottamazione di persone, perché la rottamazione delle persone è sempre un fatto estremamente negativo, io penso che bisogna rottamare vecchi contenuti, rottamare parole d'ordine ormai desuete e comunque proiettarsi verso il futuro perché ciò che si diceva vent'anni fa, forse già ciò che si diceva un anno fa, non può che essere fatalmente con i ritmi di evoluzione della società moderna superato dai fatti, quindi comunque se un partito per vent'anni dice la stessa cosa c'è qualcosa che evidentemente non funziona, quindi bisogna stimolare a mettersi in discussione, a riflettere, a confrontarsi, questo movimento che abbiamo varato è un movimento assolutamente aperto, intanto informale, quindi non intende allo stato attuale trasformarsi in chissà quale architettura organizzativa, chi usa, con le sue gerarchie è un movimento in quanto tale aperto e quindi ci auguriamo che le persone a cui lei faceva riferimento, a cominciare dai nostri dirigenti del PDL, possano recepire, comunque dovranno farlo per forza perché questa mobilitazione andrà avanti e si concluderà con una grande manifestazione a Roma dove lo zero cedario, cioè la piattaforma programmatica, verrà presentata ufficialmente, quindi insomma siamo in una fase di grande trasformazione della società e della politica e penso che movimenti che raccolgono tante adesioni debbano essere ascoltati nel merito, non ci si possa più permettere di dare pacche sulle spalle e rassicurarli da un punto di vista così formale, quindi quello che è successo tra Alfano e quei giovani che hanno lanciato un altro hashtag e cioè formattiamo il PDL a Pavia nel fine settimana scorso non l'ha convinta in modo particolare perché quella era proprio la classica situazione invece da pacca sulla spalla? Ma tutto ciò che si muove per me a destra come a sinistra, a maggior ragione se si muove a destra, rappresenta un fatto positivo, quindi sono convinto che abbiano fatto bene i giovani di Pavia guidati dal loro sindaco, così come Bignami a Bologna con l'altra manifestazione che più o meno aveva lo stesso taglio. La differenza, ma su questo ci stiamo confrontando anche con gli organizzatori di quelle due manifestazioni, di quelle due iniziative, sta nel fatto che noi vorremmo entrare nel merito perché riteniamo che avere dei contenuti sia troppo importante soprattutto se si intende essere forza di governo, quindi non soltanto degli agitatori propagandistici ma anche delle persone che creano una cultura politica e che intendono occuparsi del proprio territorio, della propria nazione per offrire delle soluzioni, quindi è indispensabile entrare nel merito, lo era forse già da sempre insomma perché una politica che non entra nel merito e non risolve non so bene a che cosa e a chi serva, ma oggi è indispensabile perché fortunatamente questa accelerazione impressa dai social network crea una circolazione di informazioni mostruosa per cui essere sguarniti di risposte o di notizie o di dati può risultare fatale, mentre prima magari si potevano mischiare attraverso le grandi trasmissioni, i talk show dove c'era comunque un'interpretazione fatta da un soggetto o pochi soggetti in un momento soltanto, quindi c'era un rapporto con una massa, con una moltitudine, oggi l'informazione quasi si costruisce a casa propria e comunque circola e ti entra dentro casa, questo è sicuramente vero e quindi non si può più improvvisare nulla, il cittadino vuole sapere se si fa una discarica, se non si fa, dove si fa, perché si fa in quel posto e quando si assume la decisione, quella decisione viene immediatamente passata in radiografia con tutti i pro e tutti i contro e quindi comunque la scelta deve essere una scelta consapevole non già orientata casomai da interessi economici per fare un favore a Tizio, a Caio, a Sempronio, ma deve essere una scelta che abbia un capo e una cota e che abbia, questo vale ovviamente per tutte le aree tematiche di cui potremmo occuparci, a cui potremmo riferirci, è una scelta che deve avere un suo obiettivo strategico, quindi che deve valere non solo e non tanto per oggi, ma anche per le generazioni che verranno. Le scrivono, dato che ne parla molto su Twitter, c'è un nostro telespettatore Michele che le scrive Rampelli, ma adesso lo recupero e lo vedremo anche in onda, allora anche Zero Berlusconi? Guardi, Berlusconi è stato molto chiaro quando ha fatto il passaggio del testimone nei confronti di Angelino Alfano. Noi riteniamo che quello schema sia uno schema assolutamente giusto, valido da confermare, quindi non ci possono essere, caso mai fosse così, dei ripensamenti perché sarebbe un errore. Berlusconi ha fatto tutto quello che doveva, lo ha fatto a nostro giudizio molto bene, è diventato ahimè una sorta di capo espiatorio per molto tempo, ingiustamente ritengo. Ora l'Italia ha bisogno ancora di Berlusconi, di un Berlusconi che faccia il padre nobile del centotestra, che garantisca proprio come soggetto terzo l'esistenza in vita di una personalità capace di tessere trame, di avere relazioni, di esistere sul piano internazionale per mantenere anche i contatti tra i partiti popolari europei o come si configurano comunque negli stati nazionali e ovviamente ciò che esiste nel centotestra in Italia, insomma ruoli importanti secondo me non compatibili con una presenza, un'esposizione primaria come Presidente del Consiglio come Presidente della Repubblica qui a casa nostra, quindi io penso che lo schema giusto sia dare grande fiducia ad Alfano per quello che riguarda il PDL, è un quarantenne, quindi insomma è anche un bellissimo investimento, è una lezione data agli altri partiti, sia al Partito Democratico che ancora si presenta con Bersani, ma anche insomma a partiti più centristi, quindi avere un quarantenne che guida un grande partito popolare di massa è un'ottima notizia che può spiazzare tutti gli avversari e mettere un po' di linfa innovativa nel dibattito politico e culturale nazionale, però ovviamente bisogna che si lasci libero Alfano di fare il suo percorso, sono convinto che Alfano comunque questa libertà se la prenderà e tutti dobbiamo lavorare affinché possa essere superata questa fase perché comunque piaccia o meno il futuro deve essere contrassegnato per l'Italia e per tutte le democrazie occidentali evolute da un centrodestra forte e popolare e un centrosinistra altrettanto forte e altrettanto popolare in modo tale che si possa mantenere in vita quella che per noi è una recente conquista ma per altre democrazie invece esiste da sempre, la democrazia dell'alternanza che è la vera garanzia nella competizione non muscolare, una competizione di contenuti appunto che una nazione, una comunità nazionale possa andare avanti e possa provvedere. Arriva un altro tweet, sono curioso di capire come risponde, uscire dal PDL e tornare a un partito di destra, altro che moderati? Perché poi la logica allora potrebbe essere, aggiungo io, si creano, si ritorna degli schieramenti un po' più affini a quello che in qualche modo ci si sente e magari si crea poi una federazione dato che se ne è parlato a lungo nel corso delle ultime settimane? Io non sono Berlusconi, non sono Alfano, non sono la russa e quindi posso permettermi di dire quello che penso in piena libertà, come ho sempre fatto, nel senso con meno obblighi istituzionali. Per me i partiti, tutti, nessuno escluso, anche quello dalla cui antica memoria provengo, sono degli strumenti, quindi finché funzionano vanno bene, il PDL è uno strumento, come lo era l'Aleanza Nazionale, come lo erano altri partiti, come lo sono stati altri partiti. Se il PDL decide di funzionare una volta per tutte e finalmente i suoi militanti, i suoi dirigenti, il suo elettorato riesce a partecipare ai processi e quindi anche a dare il contributo legato alla propria professionalità, alla propria sensibilità, alle proprie conoscenze, che è indispensabile e questa sarà la caratterizzazione fondamentale della Terza Repubblica, chiamiamola così in maniera un po' enfatica, ma il concetto è chiaro, la nuova politica sarà così, sarà fortemente partecipata, non perché lo vorrà qualcuno, ma perché, appunto come si diceva prima, i nuovi mezzi di informazione, di massa o meno, comunque entrano come uno tsunami nella conversazione, nelle relazioni, nei domicili di ciascuno di noi, quindi se il PDL deciderà, io mi auguro che così potrà essere, di essere un partito serio, un partito che assume le proprie decisioni dopo delle discussioni, io non voglio accendere la divisione e capire qual è la posizione del PDL sulla legge elettorale, basta, basta, è accaduto per vent'anni, è accaduto nel PD, come è accaduto nell'Italia dei Valori, piuttosto che nell'Udc, basta. Più nel PDL che non nel PD? No, no, è accaduto anche nel PD, perché guardi che i colleghi del Partito Democratico, sia persino i parlamentari, ma a maggior ragione quelli che stanno nelle periferie, negli antilogali, nei territori, si lamentano delle stesse identiche cose di cui si sono lamentati e si lamentano i dirigenti, i militanti soprattutto del PDL, il problema non è perché ci potrebbe stare in chi ci ascolta, ma questi rosicano perché vengono scavalcati, non è questo il punto, il punto è che davvero esistono migliaia di persone che sono nelle condizioni di dare anche dei contributi innovativi, forse addirittura decisivi per risolvere alcuni problemi del nostro sistema, della nostra architettura dello Stato, delle istituzioni e non sanno come fare, come si accede, come si partece, come posso dare, io che amo la mia patria, un contributo per poter magari sburocratizzare, delegiferare, trovare una soluzione che da un punto di vista economico possa essere migliore, contribuire con un'idea all'abbattimento del debito pubblico, piuttosto che all'eliminazione dell'Imu sulla prima casa. Non si può fare una politica chiusa, la politica è l'arte della partecipazione, la politica è dialogo, è confronto, non può andare in bicicletta senza usare i pedali, la politica bisogna farla così, con questi strumenti, per vent'anni questi strumenti sono stati di fatto sottratti alla politica e giustamente c'è un modo di ribellione perché poi ci sono effetti collaterali evidenti e storture di cui la politica è diventata vittima. Ci salutiamo con i titoli di apertura dei quotidiani nazionali che stanno chiudendo ora le loro edizioni, si tratta soltanto dei titoli, il Corriere della Sera apre con scosse infinite, paura e morte in fabbrica, la Repubblica Emilia, il terremoto infinito e poi dovrebbe esserci anche la stampa, proprio così, terremoto, strage di operai. È stata questa la notizia del giorno e senz'altro lascia una traccia profonda. Io la ringrazio per la riflessione ad ampio spettro che sta un po' caratterizzando il momento che si vive all'interno del PDL, la lascio con un unico dubbio sostanziale, c'è una cosa su cui non mi ha convinto nonostante poi l'analisi si offra e offra diversi elementi interessanti, ma ritiene davvero che il PDL nel suo interno sia arrivato al momento che descrive, a quell'espressione terza repubblica, quella classe dirigente ha la percezione di tutto quello che le si sta muovendo all'interno e all'esterno? Ma io penso proprio di sì, insomma, di quello che può apparire, perché poi se non c'è lo showdown, magari anche la persona... Conferenza stampa con la sorpresa di Berlusconi e Alfano, sempre questo tono enfatico, quando invece dovrebbe esserci un congresso, un ragionamento, la porto proprio su. Ma ai congressi ci dobbiamo arrivare, ripeto, se il PDL rimarrà in vita sarà obbligatorio del passaggio congressuale, che deve peraltro rilegittimare con un consenso ancora più esteso colui che sarà, nel caso forse Alfano sarebbe una riconferma, il segretario del PDL, quindi io non sarei così pessimista. Secondo me la politica c'è anche le sue ritualità, chi si espone pubblicamente, quotidianamente nelle conferenze, nei convegni, in televisione, eccetera, non può sempre dire tutto ciò che sente e che pensa, perché questo può comportare anche delle conseguenze, non soltanto su se stesso o sul proprio partito, ma addirittura al sistema intero, all'Italia intera, insomma. Basti pensare che se si discute di qualche grande azienda, il titolo di quell'azienda il giorno dopo in borsa può cadere in disgrazia, può creare dei danni, non soltanto l'azienda, ma i risparmiatori che ci hanno fatto casomela gli investimenti, quindi questa prudenza è necessaria e penso che vada apprezzata, salvaguardata, non demonizzata. Io sono convinto che anche le persone che in questo momento stanno minimizzando hanno perfettamente capito che siamo in un punto di svolta, del resto voglio fare una battuta, non è che ci voglia esattamente una scienza, insomma, il 2013 alle porte, un'era si è consumata e immancabilmente ne deve iniziare un'altra, quindi insomma è una previsione che saprebbe fare anche Paperino. Staremo a vedere, grazie a Fabio Rampelli, deputato del PDL, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie e buonanotte, appuntamento a domani, puntuali, 2340 in diretta con i nostri titoli di coda, buonanotte ancora. Grazie a tutti.